Rivolgo il mio saluto al Presidente della Repubblica, al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Scuola Superiore della Magistratura e a tutte le autorità e a tutti i partecipanti a questa cerimonia. Ci troviamo oggi uniti nel ricordo ed è qui che voglio rivolgere un particolare saluto ai familiari presenti, ricordo dei giudici Mario Amato, Gaetano Costa, Guido Galli, Nicola Giacumbi, Rosario Livatino e Girolamo Minervini. Nomi da pronunciare con orgoglio, simboli civili della nostra Italia che hanno pagato con l'estremo sacrificio la loro incondizionata dedizione alla giustizia e, più in generale, ai valori democratici della nostra Costituzione. Le loro barbare uccisioni rappresentano tappe drammatiche della lotta all'antistato nel solco della difesa dello Stato di diritto. In una lettera indirizzata a suo padre, poco prima di superare il concorso in magistratura, Guido Galli scriveva «Vedi papà, io non ho mai pensato ai grandi clienti o alle belle sentenze o ai libri. Io ho pensato soprattutto a un mestiere che potesse darmi la grande soddisfazione di fare qualcosa per gli altri». In queste poche righe si coglie non soltanto la nobiltà del sentimento che aveva animato la sua scelta di vita, ma anche e soprattutto la sua concezione della giustizia in termini di servizio alla collettività. Ed è questo l'ideale di giustizia a cui non possiamo rinunciare in un tempo in cui il Paese deve trovare la sua forza nella compattezza istituzionale e nella capacità di sentirsi, proprio attraverso le istituzioni, una vera comunità. Mario Amato, Gaetano Costa, Guido Galli, Nicola Giacumbi, Rosario Livatino e Girolamo Minervini sono stati crudelmente uccisi per l'impegno, la caparbietà e la professionalità con la quale avevano deciso di opporsi all'ondata di violenza criminale che puntava al cuore delle istituzioni e della nostra democrazia. Rappresentavano in definitiva la migliore espressione dello Stato, servitori che svolgevano il proprio lavoro lontano dai riflettori, nel segno della sobrietà, dell'abnegazione e del costante obiettivo di ripristinare la legalità. Alcuni di loro avevano rifiutato la scorta seppur consapevoli di essere in pericolo di vita, motivando tale scelta con la volontà di non esporre altre persone ai medesimi rischi. A distanza di poche ore, dal 16 al 19 marzo del 1980, venivano assassinati i magistrati Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini e Guido Galli. Ce l'ha ricordato il video che abbiamo visto, ce l'ha ricordato in maniera analitica il vicepresidente Ermini. Tutti, mentre compivano gesti semplici e quotidiani. Nicola Giacumbi rientrava a casa dopo essere stato al cinema con la moglie, Girolamo Minervini saliva sull'autobus per recarsi in ufficio e Guido Galli nel corridoio dell'Università Statale di Milano, dove teneva un corso sulla politica criminale in Italia. Poco tempo prima era toccata la stessa sorte al giudice Mario Amato, anche egli assassinato nel momento in cui si recava al lavoro, e poco dopo al giudice Gaetano Costa, mentre osservava alcuni libri esposti su una bancarella, in un caldo pomeriggio di agosto. La scia di sangue continuava dieci anni dopo, con l'omicidio di Rosario Livatino, giudice fortemente impegnato sul fronte della lotta alla criminalità organizzata. Le immagini che la storia ci restituisce confermano la percezione di uomini la cui gratificazione derivava dall'onore di svolgere il proprio lavoro ogni giorno con umiltà dalla parte delle istituzioni. Sono stati questi uomini per bene a difendere lo Stato, anche nel momento in cui lo Stato non ha saputo proteggerli. Nella storia di un Paese, le battaglie più ambiziose passano spesso attraverso la qualità di singoli uomini. È una dinamica che potremmo definire normale. Ciò che non deve mai accadere è che quegli uomini rimangano isolati. L'eredità che oggi dobbiamo rivendicare fortemente risiede nel dovere di tutti noi, in quanto istituzioni, di combattere con irrinunciabile compattezza ogni forma di crimine organizzato. Credo fermamente che accanto al rafforzamento delle istituzioni vada coltivata la coscienza morale e debba essere conservata la memoria di questi uomini per tradurla in azioni concrete. Sono loro i modelli di riferimento professionale e culturale a cui la magistratura e più in generale la società moderna devono rifarsi. E se ci pensiamo bene, la custodia di quei modelli è imprescindibile nell'azione del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e della Scuola Superiore della Magistratura. Questo discorso vale a maggior ragione oggi, considerando la crisi che la magistratura italiana sta attraversando, in un momento in cui la sua credibilità e il suo prestigio agli occhi dei cittadini sono stati profondamente messi in discussione. Ogni cittadino, quando entra in un'aula di giustizia per difendere i propri diritti, deve avere la certezza di trovarsi al cospetto di un magistrato autorevole perché preparato, imparziale e consapevole del suo ruolo, un ruolo che incide sulla libertà, sui beni e sui diritti delle persone. Ci interroghiamo costantemente, ed è giusto che sia così, sugli effetti delle riforme che sono sul tavolo di confronto tra gli addetti ai lavori e in Parlamento, ma è altrettanto fondamentale riportare la magistratura a riconoscersi negli uomini che oggi stiamo ricordando. Soltanto in questo modo avremmo davvero onorato degnamente la loro memoria. A tal proposito, ci tengo a confermare che ogni intervento riformatore che stiamo per portare avanti, dalla riduzione dei tempi del processo alla revisione dell'ordinamento giudiziario, deve mirare a consegnare al cittadino una giustizia non soltanto più efficiente e celere, ma anche e soprattutto più credibile attraverso il recupero della fiducia nella magistratura. Occorre lavorare seriamente, senza sosta, perché recenti scandali che hanno indebolito l'immagine della magistratura agli occhi della collettività impongono la necessità di attivare un percorso di riscatto morale, anche per tutelare la gran parte di magistrati che quotidianamente lavora con sobrietà e professionalità, non pensando esclusivamente a gratificazioni di carriera. La giornata di oggi deve rappresentare l'occasione di trovare, nel ricordo di grandi uomini, un messaggio di incoraggiamento diretto ai giovani che intraprendono il delicato e affascinante percorso della magistratura, affinché non smarriscano mai il senso profondo della funzione che hanno scelto di ricoprire. Il rispetto della memoria risiede innanzitutto nella coerenza delle nostre azioni sul piano umano e su quello istituzionale. Per questo oggi siamo qui, Consiglio Superiore della Magistratura, Scuola Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, con l'autorevole e illuminata guida del Presidente Mattarella, per non tradire il messaggio che eccezionali servitori dello Stato ci hanno lasciato, perché ricordare non significa guardare al passato, ma porre le basi per costruire il nostro futuro. Grazie. 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 Grazie.